Concedere ristori a chi ne ha davvero bisogno e poi spendere bene in fondi europei, creare occasioni per chi ha perso il lavoro. Queste le proposte di Confindustria Emilia Romagna per affrontare le conseguenze della seconda ondata di Covid. Giulia Bondi. Un nuovo decreto in vigore da domani, tante attività economiche ferme. Qual è la situazione dei ristori? Io sento molte lamentele, credo che si debba anche cercare di fare una buona selezione fra coloro che meritano realisticamente il ristoro e coloro che magari non hanno questo tipo di necessità. Cassa integrazione in deroga, quanto è stata usata, quanto anche abusata? Ne è stato fatto un notevole utilizzo di questa cassa specifica sul Covid. Poi oggettivamente le imprese da direi la fine di maggio hanno ripreso con una velocità molto forte i mercati di pertinenza in modo rilevante. È ovvio che se le imprese chiudono dobbiamo trovare delle soluzioni. Licenziamenti bloccati fino a marzo, dopo esploderà tutto? Il blocco di licenziamenti è un provvedimento utilizzato solo in questo Paese. Noi ci rendiamo perfettamente conto che un ammortizzatore ulteriore in una situazione pandemica come quella di marzo, aprile e maggio era probabilmente indispensabile, però in questo modo si bloccano molte aziende che avrebbero necessità di personale. L'elemento fondamentale sarà quello di dare lavoro a persone che hanno perduto il lavoro. Il superbonus edilizio a chi servirà, cosa farà ripartire in Emilia Romagna? Questo è un elemento sul quale bisogna lavorare e soprattutto mantenerlo per due o tre anni. Come Confindustria che posizioni avete sul recovery fund e sull'eventuale ricorso al MES? Tanti fondi. Il nostro Paese non è riuscito a spenderli in modo opportuno e avere disponibilità economica e non spendere è veramente una cosa pazzesca. Io sono dell'opinione che se si possono risparmiare 300-400 milioni di interessi credo che il MES valga la pena di utilizzarlo.